da qua e non dalla prima perché non è la prima questa è la prima ok possiamo partire buon pomeriggio a tutti coloro che hanno la costanza e la pazienza di ascoltare la mia voce mentre rendo di pubblico dominio i risultati delle mie ricerche negli archivi e nelle biblioteche nel contesto del discorso sulla prelatura di Santa Lucia che nel precedente incontro abbiamo visto sorgere nel 1586 quando Girolamo Riggio, palermitano, cappellano maggiore del regno di Sicilia fu costretto a lasciare la cappella palatina di San Pietro per fissare la sua residenza a Santa Lucia oggi ci soffermeremo sul territorio di Merì che dalla documentazione pervenuta ci risulta essere appartenuto alla giurisdizione della terra di Santa Lucia creata nel 1324 fino agli inizi del 600 questa è una mappa chiamiamola mappa è un disegno che descrive il territorio di Santa Lucia è stato trovato dal professore Aricò in un archivio spagnolo non ci interessa nel dettaglio comunque vediamo questo è il torrente muto questo è il floripotema questo dovrebbe essere il mela vi faccio vedere l'angolo a destra dove ecco in maggior dettaglio vediamo il casale di San Filippo Feudo di San Filippo Feudo di Belvedere e all'estrema destra vedete indicato Merì con due i una breve e una i lunga quindi il territorio di Merì si trova rispetto a Santa Lucia all'estremo occidente questo è invece la situazione attuale perché Merì è un comune autonomo è incuneato di piccole dimensioni è incuneato fra i comuni di Barcellona Barcellona posso ricordo Milazzo, San Filippo e Santa Lucia le sue dimensioni sono veramente piccole il comune di Merì ha una superficie di 1,850 km2 corrispondenti esattamente a 17 tumuli è il penultimo comune della provincia di Messina in ordine di grandezza o di piccolezza l'ultimo è Rocca Fiorita che è ancora più piccolo ma di poco il conteggio dei 17 tumuli l'ho fatto qui un tumulo è 1088 metri esattamente 1088,46 cm2 ovviamente se lo moltipliciamo per 17 fa esattamente 18.503 che sono i metri quadri della superficie comunale di Merì quindi memorizzate questa misura che fra poco ci servirà questa è l'ubicazione di Merì ed è attraversato dalla nazionale diciamo la stradale 113 che nel territorio di Merì prende il nome di Via Dante ecco in onore del nostro sommo poeta nel periodo che ci interessa cioè il 600 si chiamava Dromo però se voi guardate allora questo quadrilatero è la parte più vecchia del paese lo comprendiamo dal fatto che le viuzze sono una addosso all'altra sono ravvicinate e potete notare che le case non fronteggiano esattamente la linea del Dromo come ci aspetteremmo le vediamo invece che formano un angolo ci sarà un motivo perché di solito le case si fanno fronte strada non si fanno ad angolo con la strada qui lo vediamo in una veduta aerea perché forse risalta meglio questa storia dell'angolo che vi sto dicendo perché? perché se noi allarghiamo la visione vediamo che questa strada qui che corrisponde con il fronte delle case è una strada che trova la sua prosecuzione dall'altro lato del torrente questo era il tracciato del Dromo che poi è stato spostato perché qui c'è il ponte sul Mela il ponte hanno dovuto costruirlo in questo punto e quindi hanno spostato il tracciato del Dromo diventata prima via provinciale e poi via nazionale allora vi faccio conoscere noi non dobbiamo parlare né del ponte né del Mela dobbiamo parlare di Meri e della sua economia questo ci eravamo proposti nel titolo vi presento questo personaggio il fondatore del paese di Meri si chiama Barone Visconte Rizzo la parola Visconte è proprio il suo nome Visconte non è un titolo Visconte Rizzo era messinese come ovviamente ci aspettiamo perché chi mi ha seguito in altri corsi ricorderà che la piana di Milazzo faceva gola ai messinesi che la occuparono a tappeto per procurare viveri a Messina in ogni occasione soprattutto in caso di carestie o di guerre Visconte Rizzo messinese barone di Meri dal 19 maggio 1576 in qualità di erede del padre Bernardo più che un barone è un imprenditore industriale un creatore di lavoro come potremo vedere pensate che nel 1579 gestiva la gabbella della pesatura della legna combustibile che si vendeva alla marina di Messina per dire lo spirito di imprenditore diciamo che lo animava siamo nel periodo in cui la Sicilia è governata dal vicere Marcantonio Colonna dal 1577 al 1584 e questo quindi l'anno successivo a quello in cui il nostro Visconte Rizzo diventa barone di Meri l'anno successivo viene nominato vicere questo Marco Antonio Colonna che è uno dei protagonisti della battaglia di Lepanto giusto per inquadrarlo storicamente e questo vicere dispone la realizzazione di un'opera di grande portata per la piana di Milazzo la deviazione del torrente Mela di cui non si trovano grandi tracce io vi faccio ascoltare quello che ha scritto la professoressa Antonina Fornaro nel 1956 a questo proposito dice così dai monti peloritani scendono numerose brevi fiumare di profilo alquanto inclinato il loro letto forma un bianco nastro di ghiaia tra il verdeggiare delle colture della piana tra esse merita particolare menzione la fiumara Mela che in origine uscendo dalla stretta gola di Merì allargava il suo letto e continuando per le odierne contrade Due Torri e San Pietro di Spadafora si scaricava dove è oggi il porto di Milazzo ad evitare gli innumerevoli guai che questa fiumara recava con le sue inondazioni nel 1581 il suo corso fu deviato verso occidente dal vice re Marcantonio Colonna che abbiamo nominato le furono costruiti argini a guise di bastioni ma il letto del fiume si fece a poco a poco più alto della pianura intorno per cui il Mela ha continuato pure in seguito ad inondare la piana versandovi sabbie e ghiaia dopo la sua moderna inalveazione le più gravi inondazioni sono state quelle degli anni 1618 1737 e 1846 la nostra professoressa mette in risalto l'aspetto negativo della presenza del Mela invece il nostro il nostro Visconte Rizzo vide l'evento sotto un altro punto di vista e cioè vide l'opportunità della disponibilità di una quantità di acqua che prima non aveva e allora cosa cosa pensa pensa di realizzare di sfruttare questa presenza e disponibilità di acqua per prima cosa si rivolge al vice re e chiede il permesso di poter creare un feudo abitato perché il suo feudo fino a quel momento era disabitato ha detto soltanto alla coltivazione uliveti vigneti gerseti e la possibilità anche chiede di creare una terra autonoma ricorderete dalla precedente il precedente incontro che la parola terra in questo periodo significa ente autonomo quello che oggi chiamiamo un comune cioè nella sua piccolezza di dimensioni lui si propone di portare degli abitanti in questo suo feudo e di crearsi quindi un comune autonomo come era Santa Lucia e come era Milazzo il vice re glielo dà il permesso adesso si tratta di realizzare questo disegno nei primi di settembre del 1582 acquista da Cesare Calderaro 14 tumuli di terreno ricordatevi che tutta la superficie oggi è 17 tumuli acquista 14 tumuli di terreno confinanti col suo feudo e appartenenti al territorio di Milazzo qui dobbiamo fare una precisazione ricordarci che quello che oggi è territorio di Pozzo di Gotto in questo tempo cioè fino al 1639 è territorio di Milazzo quindi quando diciamo territorio di Milazzo non dobbiamo guardare verso l'attuale territorio ma guardare anche verso Calderà verso Pozzo di Gotto si fa concedere dai giurati di Milazzo l'assenso ad annettere il predetto terreno al suo feudo scrive al vicere per ottenere l'annessione del terreno acquistato al suo feudo una volta che i giurati di Milazzo hanno dato il loro assenso e anche il vicere dà il suo assenso io devo sannare questa cosa ok allora acquistato il terreno la condivisione io le dovevo togliere davanti sì allora proseguendo abbiamo visto abbiamo visto che ha comprato questa vasta tenuta di 14 tumuli avvia la coltivazione della canna mele cioè della canna da zucchero un'idea un po' fuori tempo diciamo e contemporaneamente costruisce un impianto per la produzione dello zucchero un trappeto un mulino un magazzino un fondaco questa è una cartina di uno studio sulla distribuzione degli impianti per la produzione dello zucchero in Sicilia in questo periodo ed ecco che anche se non è molto chiaro vediamo segnato Santa Lucia con la presenza di quindi di produzione di zucchero decide anche il nostro varone di impiantare un'industria per la lavorazione della seta perché prima c'erano i gel seti venivano raccolte le fronde per allevare il banco da seta adesso lui crea proprio l'industria dando ovviamente gli servono le maestranze allora da ospitalità a 50 famiglie dei paesi vicini Milazzo Santa Lucia Castro Reale Montalbano e così crea da luogo alla fondazione alla formazione di questo paese di Merì e quindi costruisce il palazzo per sé il palazzo baronale la chiesa della Madonna dell'Italia e alcune case per i nuovi abitanti altre case le costruisce nel terreno di nuovo acquisto nel terreno di Cesare Calderaro che mi suona molto simile al nome della contrada Calderà non vorrei che ci fosse un nesso e su quest'altro terreno costruisce la nuova chiesa dell'Annunziata nella parte del feudo appunto appartenente a Milazzo quindi noi abbiamo un paese doppio un paese che sta nel territorio di Santa Lucia ed è questa è la piazza che divide il paese questa in alto è la chiesa dell'Annunziata oggi la chiesa parrocchiale da questo lato era territorio di Milazzo cioè di Pozzo di Gotto e da questo lato era territorio di Santa Lucia perché qua dietro c'è il fiume Mela qui c'era la chiesa dell'Idria e qui c'è la chiesa dell'Annunziata queste due zone del paese era come se fossero indipendenti l'una dall'altra vi spiegherò perché il feudo di Merì cioè la parte a sinistra guardando qui la parte a sinistra di questa fotografia il feudo di Merì con la chiesa dell'Idria e il palazzo baronale è sito in territorio di Santa Lucia e quindi dal punto di vista religioso appartiene al prelato la terra all'epoca e il periodo in cui il prelato c'è e non c'è ancora la terra di Merì che è invece la parte a destra della piazza di quella linea con la chiesa dell'Annunziata che è ancora oggi esistente è sito in territorio di Milazzo giurisdizione dell'arcivescovo di Messina questa cosa ci interesserà poi dove era la chiesa dell'Idria abbiamo detto in quello che si chiama feudo di Merì territorio di Santa Lucia era attaccata al palazzo baronale è stata demolita di recente nel 1953 perché in quell'area un pezzo dove c'era la chiesa dell'Idria che poi alla fine veniva usata come magazzino è stata utilizzata per realizzare la scuola materna che è questa scuola materna Maria Greco Carollo oggi l'altra chiesa la chiesa dell'Annunziata è questa ancora oggi esistente mentre quell'altra non c'è più e questa è la chiesa parrocchiale e vi faccio vedere pure l'interno dove sono andato in questi giorni allora a un certo punto spunta la novità della gabbella della congura voi vi immaginate il barone Visconte Rizzo che dopo avere creato la produzione dello zucchero la produzione della seta a un certo punto gli arriva ha l'orecchio che il prelato di Santa Lucia siamo nel 1607 da quando lui ha realizzato queste cose è passato un po' di tempo e quindi lui era abituato a lavorare pagare le tasse dovute insomma ma questa nuova tassa la gabbella della congura non se l'aspettava sicuramente e quindi immaginatevi la sua reazione la cosa come funzionava che il il prelato emanava un bando in tre chiese che poi erano le chiese di Santa Lucia non è che c'era cioè la cattedrale che allora si chiamava la chiesa maggiore nella chiesa di San Nicola che oggi non funziona più l'edificio è ancora lì ma è chiusa la chiesa e la chiesa della annunziata che è ancora oggi funzionante pubblicando l'editto in queste tre chiese loro avevano già reso pubblico secondo loro la nuova disposizione i proprietari cosa dovevano fare dovevano al momento del raccolto senza spostare il frutto raccolto dal terreno in cui l'avevano raccolto dovevano fare una denuncia il rivelo dichiarare quanto probabilmente c'erano dei funzionari che controllavano sicuramente che la dichiarazione fosse veritiera dopodiché raccolti tutti questi riveli gli uffici del prelato stabilivano quanto ognuno doveva pagare ovviamente uno che era barone doveva pagare una bella cifra infatti il barone nostro Visconte Rizzo che aveva vigneti uliveti gerseti e canneti perché anche le canne venivano considerate non come oggi venivano considerate un bene con un prezzo non fa la sua denuncia dei prodotti raccolti quindi c'è tutta una prassi l'ufficio attesta che il barone non ha pagato vengono interrogati dei testimoni per sapere quanto ha prodotto e risulta che ha prodotto 40 botti di mosto 60 cafisi di olio più un certo quantitativo di fronde come abbiamo visto che servivano per l'alimentazione dei bacchi da seta più il frumento più le canne e non avendo attestato che non ha rivelato attestato che non ha pagato andiamo allora viene scomunicato l'arma che ha il prelato è quello della scomunica oggi forse fa ridere all'epoca invece la scomunica che veniva ci sono passati anche sovrani come Federico II di Svevia per esempio che cosa comportava allora dicono i canoni sia separato dalla comunione dei fedeli sia separato dalla partecipazione ai divini uffici sia separato dai santissimi sacramenti vivendo sia cacciato dalla chiesa e morto sia privato della ecclesiastica sepoltura cioè proprio tagliato fuori completamente fra le tante cose nessuno poteva parlare con uno scomunicato era peccato cosa come reagisce Visconte Rizzo invia invia una denuncia un memoriale un memoriale al giudice della reggia monarchia qualcuno si ricorderà chi era questo giudice della reggia monarchia che poi era stato creato da poco tra l'altro cioè era proprio il sostituto a Palermo di quello che prima faceva il cappellano maggiore che nel frattempo era stato come si dice costretto a risiedere a Santa Lucia quindi era proprio il colmo insomma che Visconte Rizzo si rivolge al giudice della reggia monarchia che ovviamente gli dà ragione il giudice chiede l'invio della documentazione scrive al predato e c'è un mare di corrispondenza fra Santa Lucia e Palermo per queste questioni e se voi vi immaginate che questa prassi questa vicenda si moltiplica per ogni feudo cioè noi stiamo vedendo Merì ma contemporaneamente c'è il feudo di Cattafi c'è il feudo di Camastra c'è ci sono i feudi di dei Benedettini ci sono i feudi dei Cistercensi cioè immaginate che movimento che traffico di corrispondenza si è creato per sciogliere questo questo nuovo nodo che si era venuto a creare in questo piccolo territorio che è quello della prelatura di Santa Lucia tra l'altro come avete potuto intuire quando vi ho fatto vedere che il territorio di Merì piccolo per quanto fosse era diviso in due una parte sottoposto al prelato di Santa Lucia e una parte sottoposto all'arcivescovo di Messina sorgono anche delle questioni fra i due le due autorità ecclesiastiche perché l'arcivescovo di Messina interviene prima di tutto perché Visconte Rizzo è messinese e se la congrua serve per come dire remunerare il prelato per il suo per la sua amministrazione di sacramenti celebrazione di messe cioè per la sua il suo ministero Visconte Rizzo dice ma io i sacramenti li prendo a Messina il vicario generale di Messina nel 1608 assolve Visconte Rizzo dalla scomunica cioè c'è proprio un contrasto fra le due autorità ecclesiastiche che viene risolto fra di loro nel senso appunto che il prelato di Santa Lucia comunica al all'arcivescovo di Messina che lui può benissimo andare a fare la visita in quella parte di Merì che si chiama terra di Merì e che appartiene a Milazzo senza però andare nel territorio che riguarda nell'altra chiesa che riguarda Santa Lucia e ovviamente l'atmosfera diciamo è così di contrasto che dovete figurarvi che risulta dai documenti consultati e tuttora conservati nell'archivio della prelatura dell'ex prelatura di Santa Lucia che il cappellano della chiesa dell'Annunziata che era territorio di Milazzo si rifiutava di se veniva chiamato da una persona che stava cento metri più ma che era territorio di Santa Lucia per non creare la mentele diciamo da parte del prelato di Santa Lucia l'arcivescovo di Messina si lamenta da quando è diventata terra Merì appartiene alla sua diocesi i suoi predecessori hanno visitato la terra di Merì e quando l'arcivescovo di Messina parla con il prelato che si chiama Simone Rao nel frattempo forse qualcuno di voi si ricorda che Simone Rao era figlio di e cioè era figlio del presidente del tribunale della regia gran corte e l'arcivescovo di Messina delicatamente gli ricorda che lui è un servitore del presidente cioè dice a chi devo sentire tuo padre oppure te stesso beh a un certo punto Visconte Rizzo muore su internet non è nemmeno sui libri non si trova la data di morte l'ho ricavata perché l'ho ricavata nei registri del grande ospedale di Messina perché fra le tante cariche che io non vi elenco perché ci vorrebbe molto tempo fra le tante cariche che lui ricopriva aveva anche quella di confrate della del grande ospedale di Messina e per due anni dal 1606 al 1608 ha svolto anche il ruolo di rettore proprio dell'ospedale del grande ospedale di Messina a un certo punto quando moriva un confrate bisognava eleggere il sostituto e quindi nei registri del grande ospedale che sono all'archivio di stato di Messina trovo questa annotazione il 22 di agosto del 1609 il il rettore in carica dice si chiama Lanza propose al detto collegio che siccome come piacque a Dio è morto è morto il fu Visconte Rizzo eccolo qua Viscontis Rizzo uno dei confrati del collegio dell'ospedale bisogna eleggere un altro confrate e questa è la notizia che è morto sicuramente prima di questo giorno del giorno di questo verbale cioè 22 agosto 1609 in un libro sulla storia di Meri il l'autore Antonino Cofforino sbaglia di poco perché segna 1610 ma insomma siamo lì questa è la data sicura perché è un documento diciamo involontario non sapevano che avremmo dovuto leggerlo noi a distanza di tempo allora per quanto riguarda il Visconti Rizzo devo sottolineare che la storiografia attuale della prelatura di Santa Lucia rimprovera a Visconti Rizzo questo suo acquisto di terreni nella pertinenza della terra di Milazzo perché lui avrebbe fatto questo acquisto con lo scopo proprio di sfuggire alla congrua purtroppo le date non danno ragioni ragione a questi storiografi perché noi sappiamo che la congrua parte dal 1607 mentre il nostro Visconti Rizzo il terreno abbiamo i documenti li ha comprati nel 1582 molto tempo prima e le sue intenzioni erano quelle di creare di sfruttare quel suo piccolo territorio ma che diventava ricco per la presenza dell'acqua del mela questo è il Monsignor Salvatore Cambria nel suo testo sulla prelatura di Santa Lucia a un certo punto dice queste parole Mery fu sottratto alla giurisdizione spirituale di Santa Lucia nel 1613 e lui immagina che nel 1613 ancora sia vivo Visconti il Visconti Rizzo signore di Merì non doveva essere un buon cristiano da pure un giudizio non soddisfaceva neppure il precetto pasquale per tale motivo dopo insistenti paterni richiami Monsignor Rao Grimaldi lo scomunicò invece noi sappiamo che lo scomunicò perché non pagava la congrua il Rizzo allora per vendicarsi comprò una vasta tenuta di terre nel territorio di Milazzo e Limitro falsofeudo verità è vero questo ma la data è anteriore e riuscì a carpire un decreto governativo con il quale il nuovo acquisto attirava a sé il vecchio possedimento e quindi Merì cessava di essere territorio civile di Santa Lucia ed entrava a far parte del territorio di Milazzo con questo espediente il Rizzo si sottrasse alla giurisdizione spirituale di Santa Lucia né l'interessamento di Monsignor Moscella Valse a riportare quella parrocchia nell'orbita della prelatura ma questi sono fatti tutti posteriori alla morte di Visconte Rizzo lo stesso giudizio è riportato da padre Giovanni Parisi nel suo libro su Santa Lucia ma proprio copiato copiato tant'è vero che Monsignor Cambria si lamentò di questa di questa di questo plagio lo chiama proprio così invece l'acquisto è stato fatto nel 1582 in data anteriore addirittura alla visita di Francesco Vento a Santa Lucia che Francesco Vento fu quel visitatore che impose al prelato che era anche parroco e dice siccome è anche parroco deve risiedere a Santa Lucia è da escludere quindi che lo scopo di Visconte Rizzo fosse quello di staccare il suo feudo da Santa Lucia come sostengono alcuni studiosi che vi ho appena nominato io vorrei a questo punto raccontarvi una storia che si racconta a Merì a proposito della morte di Visconte Rizzo e la riporta vi cito le parole dell'autore che ho citato poco fa Antonino Coppolino Merì nella storia editore Lippolis Messina 2003 si narrava che un giorno Don Visconte Rizzo fosse uscito per una passeggiata a cavallo conducendo con sé una bambina qui le discordanze erano tante c'era chi sosteneva che la giovinetta fosse una nipotina del barone chi una sua creatura avuta con una donna del luogo chi una ragazzina del paese strane alla famiglia Rizzo e nell'attraversare il corso della fiumara l'animale infastidito dalla corrente impetuosa si era impennato catapultando entrambi in acqua riavutosi dal momentaneo stordimento ed accortosi che la bambina in seria difficoltà annaspava nell'acqua il nobile forte uomo anche se maturo negli anni con generoso slancio rientrò nella turbinosa fiumara e con sforzi inumani riuscì a raggiungere la giovinetta che però in preda al panico gli si avvignò precludendo in tal modo per ambedue ogni via di salvezza infatti stremato ormai dagli sforzi ed ostacolato nei movimenti da quella presa funesta il barone assieme alla ragazzina era stato travolto e trascinato dalle turbinose acque del mela è un racconto popolare però si raccontava che i soccorritori nel recuperare i corpi degli annegati per ironia della sorte li avevano trovati abbinti in quell'ultimo abbraccio e che per questo motivo erano stati tumulati nella stessa dom la verità difficilmente si potrà mai conoscere una certezza rimane dentro la tomba di Visconte Rizzo assieme alla sua bara fu trovata anche quella di una bambina da ciò però si può presumere soltanto che entrambi siano morti nella stessa giornata ma secondo me ci sarà un fondo di verità in questo racconto questa è la tomba è stata si trovava e si trova tuttora nella chiesa dell'annunziata si trovava sul lato destro hanno dovuto creare un'apertura e quindi l'hanno smontata hanno trovato le due bare e poi l'hanno rimontata sul lato sinistro adesso di chi entra in chiesa il monumento funebre eretto nel 1634 dal genero genero girolamo morra siamo abbiamo qualche minuto io vi indico questa bibliografia ovviamente non vi indico né signor cambria né padre parisi non perché per dare un giudizio ovviamente chi scrive di storia ha sempre corre il rischio di dire qualcosa di impreciso anzi mi piace dire che il libro di storia definitivo non sarà mai scritto quindi suggerisco questi due che sono soprattutto l'Antonino Coppolino Merì nella storia che è del 2003 un altro un altro studio su Merì e questo di Agostino D'Amico è del 1906 ma ha molti riferimenti bibliografici e quindi può essere utile a questo punto vi ricordo che il terzo incontro cioè martedì prossimo riguarderà la situazione nel feudo di Cattafi e l'altro del 25 maggio sarà l'ultimo la situazione nel casale di San Filippo e trarremo le conclusioni io non so se ci sono possibilità di andare oltre abbiamo dieci minuti vi parlerei della del perché della coltivazione della canna da zucchero allora il il processo di produzione iniziava dalle piantagioni dove le piante venivano irrigate almeno tre volte a settimana soprattutto nel periodo estivo quando registravano la maggiore crescita dopo tre o quattro anni quando le canne raggiungevano la giusta maturazione venivano raccolte e trasportate agli impianti di produzione spesso tramite piccole imbarcazioni che facevano la spola tra i porticcioli costruiti appositamente nei pressi delle piantagioni e dei trappeti si chiamavano trappeti i posti dove perché bisognava tirare fuori questo zucchero dalla canna che era contenuto infatti la canna da zucchero è tutt'altro che semplice da coltivare richiede alte temperature tutto l'anno enormi quantità d'acqua e parecchio tempo per raggiungere il grado di maturazione perfetto in Sicilia le condizioni climatiche non sono proprio ideali dato che solo in estate la temperatura si mantiene costantemente sopra i 20 gradi quelli necessari a far crescere la canna mela o canna mele nonostante ciò gli inverni non troppo rigidi e l'abilità dei coltivatori permetteva di ottenere delle canne mature alte circa un metro e mezzo come nella figura che avevamo visto un risultato sufficiente a dar vita a un commercio redditizio dopo averle portate nel trappeto le canne venivano macinate con delle mole di pietra e poi lasciate a decantare in un contenitore vegetale prima di essere spremute a vite con un processo manuale simile a quello per la produzione del vino in seguito il succo veniva cotto e asciugato in apposite caldaie di rame che venivano prodotte solo a Venezia e poi filtrato in contenitori di terracotta dotati di piccoli buchi tale processo veniva ripetuto per tre volte sino a raggiungere un grado di purezza adatto alla vendita infine lo zucchero raffinato veniva imballato in una speciale carta azzurrina da qui il colore carta da zucchero e spedito in tutta Europa le canne una volta tagliate si deterioravano velocemente era indispensabile quindi procedere celermente all'estrazione della polpa e al successivo trattamento questa facile deperibilità consigliava la costruzione vicino al canneto di tutta una serie di edifici che accoglievano non solo l'intero processo produttivo per l'estrazione del succo e la successiva produzione dello zucchero ma che permettevano anche di alloggiare le numerose maestranze indispensabili per una buona lavorazione del prodotto io per concludere voglio testimoniarvi che il nostro Visconte Rizzo è tutt'oggi molto benvoluto ed amato dai meriesi che gli sono grati per tutto quello che lui ha fatto per il paese più che di solito un barone non è ben visto ma lui lo era è stato assolutamente una persona molto stimata e quando lui si rivolgeva contro il prelato o contro i giurati di Santa Lucia state sicuri che tutti gli abitanti di questo suo feudo erano con lui vi ringrazio del gentile ascolto grazie a lei buonasera a tutti grazie